Consigliere Sommese ha presentato un'interrogazione al Question Time sullo stato di avanzamento e di potenziamento dei centri per l'impiego. Ci spiega innanzitutto la sua interrogazione? Intanto fa piacere registrare quello che è l'impegno della Regione Campania a portare a termine e dare risposte alle tantissime persone che stanno aspettando scorrimento di questi gradatori. Anzi, rilanciamo la nostra attività ma lo facciamo in una logica più ampia, non solo con i centri dell'impiego, ma seguendo quelli che sono gli obiettivi che la Regione Campania si è dato in questo ormai scorcio di legislatura, ovvero di efficientare e riammodernare completamente il comparto della pubblica amministrazione ma più in generale del mercato del lavoro. Questo affinché possa avvenire c'è bisogno di un'interconnessione totale tra vari strumenti che sono i centri per l'impiego, le agenzie del lavoro, il programma Goal, passando per la formazione. L'unico modo è creare una filiera organizzata che porti a termine dalla richiesta, domanda di lavoro all'inserimento del lavoro da parte soprattutto di tantissimi giovani del nostro territorio. Sono gli strumenti giusti, noi continueremo su questa attività e siamo convinti che occorre anche riorganizzare completamente il comparto del mercato del lavoro e renderlo più dinamico e più smart. Che garanzie sono arrivate dall'assessore Marchello? Beh, intanto l'impegno che la Regione Campania ha assunto non solo di procedere al scorrimento di quelli che sono gli ultimi in grado d'oria, ma di rafforzare ulteriormente, utilizzando anche i fondi strutturali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vanno proprio in questa direzione. Quindi ci rassicura anche l'attività che sta facendo il Governo regionale e noi come Consiglio regionale siamo sempre sul pezzo per sollecitare e accompagnare questo tipo di attività. Nell'interesse dei giovani e dei cittadini della campagna.